bentornati su soluzioni pc oggi andremo a vedere quali sono i migliori ad blocker disponibili dopo il fermo di ublock origin su google chrome nel mondo odierno affrontiamo costantemente minacce online e gli ad blocker ci vengono in aiuto non solo bloccando le pubblicità ma anche proteggendoci dal tracciamento dei dati e velocizzando la navigazione andiamo a vedere quali sono per me i 5 migliori blocchi della pubblicità disponibili su browser e non solo numero 1 surf shark client web parte integrante del parchetto surf shark vpn client web offre blocco degli annunci per rimuovere tutti i tipi di annunci inclusi banner annunci video e finestre pop up velocizzando così il caricamento delle pagine e risparmiando dati client web è dotato di un filtro avanzato che elimina efficacemente la pubblicità indesiderata durante la navigazione internet questa funzionalità non solo migliora l'esperienza rimuovendo gli annunci pubblicitari ma contribuisce al caricamento più rapido dei siti con un conseguente risparmio eventualmente stessimo usando dati mobili inoltre rimuove anche la pubblicità da tutti i servizi di streaming come youtube o disney plus un'altra caratteristica chiave di client web è la protezione dal tracciamento che salvaguarda la tua privacy bloccando il tracciamento online dai siti che frequenti blocca i codici di tracciamento utilizzati dai servizi google facebook o altre agenzie pubblicitarie le tue attività online saranno protette dal tracciamento e non verranno condivisi con terze parti client web è una funzionalità integrata in surf shark vpn surf shark è un'azienda affidabile che non raccoglie né traccia mai le tue attività online quindi non ha bisogno di rivendere i tuoi dati client web è disponibile come estensione per google chrome firefox ed edge come app nativa su pc e mobile cosa che vi permette di avere il blocco annunci anche sulle smart tv se volete saperne di più vi lascio un link in descrizione per sapere qual è la migliore offerta attiva in questo momento numero due ghostry questo non è solo un semplice blocco pubblicità è una suite per la privacy nato più di dieci anni fa ghostry blocca non solo gli annunci ma anche i tracker cioè quei pezzetti di codici che ti seguono da un sito all'altro per cercare di profilarti e poi successivamente venderti delle cose ghostry è un'interfaccia molto pulita e facile da usare anche se più semplice e con meno opzioni di altri ad blocker ti mostra quanti tracker ha bloccato su ogni sito e inoltre anche una funzione chiamata ghostry insight che ti dà un sacco di informazioni sul comportamento dei siti web difetti a volte blocca anche un po troppo tipo alcune funzioni essenziali di alcuni siti che vengono resi di fatto invisitabili in sintesi ghostry è uno strumento efficace soprattutto per chi ha a cuore la propria privacy numero 3 ad guard passiamo ora ad guard qui il discorso si fa più interessante perché ad guard è un po più pesante e cioè nel senso che non è solamente un estensione disponibile per browser come lo era ghostry ma è più simile a client web di surf shark quindi una suite completa di app per windows android mac os ios anche se devo dire che su apple ha delle limitazioni che lo rendono meno efficace di altri sicuramente ad guard blocca pubblicità tracker scripting phishing praticamente è una protezione completa per tutto quello che può essere pericoloso ma ha anche delle funzioni avanzate come il controllo parentale il dns personalizzabile e addirittura un filtro per le app mobili il contro principale è che non è gratis l'app richiede un abbonamento per avere full optional se no gratuitamente ha delle funzioni funzioni molto limitate ed è solamente un'estensione per browser simile a ghostry numero 4 opera ad blocker ok adesso parliamo di qualcosa che magari molti hanno già sotto il nase e non lo sanno nemmeno opera ad blocker è un ad blocker integrato nel browser opera per tutti quelli che usano opera forse già lo conoscono la cosa bella è che non devi installare niente lo attivi e dalle impostazioni e subito ed è efficace opera blocca la pubblicità in modo abbastanza efficace ed è anche rispettoso delle prestazioni il che significa che comunque rende il caricamento delle pagine più veloce ovviamente il limite è che funziona solo se usi opera quindi se sei affezionato ad altri browser tipo firefox o chrome non potrai averlo dovrai per forza installare qualche estensione magari tra quelle di cui abbiamo parlato in precedenza però se cerchi una soluzione integrata dove non devi installare niente ma solamente attivarla in modo semplicissimo utilizzare opera che sia opera o opera gx ti darà immediatamente questa opzione e in più opera ha anche una vpn gratuita numero 5 ublock origin light ed ecco che veniamo al figlio di ublock origin quello che rimane dopo la limitazione che c'è stata su google chrome comunque non confondiamoci questa non è la versione ridotta del mitico ublock origin è un'estensione separata pensata per essere più leggera veloce e compatibile con i nuovi standard di google infatti con l'arrivo del manifest v3 su chrome che limita alcune funzioni delle estensioni molti adblocker stanno correndo i ripari e ublock origin light è stato creato proprio per funzionare bene anche con queste nuove restrizioni rispetto alla versione completa ha meno filtri e meno opzioni personalizzabili ma fa comunque un buon lavoro nel bloccare annunci più invadenti e tracker è perfetto se vuoi qualcosa che non ti complichi la vita che non consumi troppa ram e sia compatibile con i browser basati su chromium se invece utilizzi dei filtri personalizzati e delle liste personalizzate l'unica opzione è utilizzare ublock origin ma con un altro browser per esempio con mozilla firefox e questi erano i 5 migliori adblocker secondo soluzioni pc scrivetemi nei commenti quali sono gli adblocker che voi utilizzate e se vi trovate bene iscrivetevi al canale per altre soluzioni pc ci vediamo ad un prossimo video ciao ciao